Studiare non è una cazzata. Ci sono guru che hanno messo in piedi un circo di fesserie di falsi miti sull'apprendimento e il metodo di studio. E questo è il momento di parlare chiaro, di smontare le stupidaggini pseudoscientifiche. L'ho fatto nel mio nuovo libro, Studiare non è una cazzata, appunto, in uscita per Feltrinelli Editore l'11 aprile. E dato che ci tengo a sapere quanti di voi inizieranno quest'opera antifuffa insieme a me e a capire quante copie riesco a vendere, per chi condivide sui social una foto o un video con il mio libro taggandomi ci sarà una sorpresa che non vi aspettereste mai, ne sono sicuro. Vi lascio tutti i dettagli in descrizione. Intanto segnatevi la data e tenetevi pronti. L'11 aprile in libreria e online esce